Strategia e-commerce, il podcast con novità, commenti e interviste sul mondo e-commerce italiano. Che cos'è la customer retention e come considerarla all'interno della strategia di un negozio online? Ciao a tutti, sono Emilio Lodigiani e questa è una nuova puntata di Strategia e-commerce. Parliamo della customer retention. E' un termine che sentiamo spesso, chi legge blog di marketing o informazioni online spesso trova questo termine di origine inglese. Cerchiamo innanzitutto di capire che cos'è di tradurlo. Ora se lo metto dentro Google Translate, customer retention esce fidelizzazione dei clienti. Se lo cerco sul web, Wikipedia mi propone la versione inglese, customer retention, o quella italiana, fidelizzazione. Ok, quindi in realtà quando parliamo di fidelizzazione in italiano intendiamo appunto rendere fedele un cliente che generi quindi acquisti ripetuti con la sua periodicità. Lo vogliamo fedele. Intendiamo qualche cosa di psicologico, la psicologia della fedeltà, quindi all'affezionarsi a un brand. Nella customer retention parliamo più di una questione pratica che poi effettivamente corrisponde alla fidelizzazione. Diciamo vogliamo ritenere, cioè far ritornare, conservare i clienti. Quindi diciamo è la conservazione del cliente. Customer retention detto così è dal punto di vista del negozio. Il negozio conserva il cliente. Comunque sia il match con la fidelizzazione è molto buono. Consideriamoli uguali. Allora, customer retention è appunto il fatto che il negozio conservi il cliente che ha già comprato. E a questo proposito possiamo diciamo ragionare su determinate realtà perché su alcuni mercati questo è fondamentale e su altri invece è improbabile. Quindi cerchiamo di capire quando ha senso parlare di customer retention in base a che tipo di negozio. Ora, ci sono delle situazioni, delle tipi di vendita dove ad esempio il valore di ciò che vendo è un valore alto e la vendita viene fatta molto raramente. In questo caso è difficile parlare di ritenzione, di conservazione del cliente con acquisti ripetuti, fidelizzandolo. È possibile ma è relativamente difficile. Per esempio le automobili. Ora, si parla di acquisti che si fanno ogni anni, tot anni, automobili piuttosto che elettrodomestici o mobili. Questi si fanno ogni tot anni. Ora, le automobili hanno dei meccanismi di customer retention e di fidelizzazione. In generale l'automobile tende a dirti ok, ricompra la mia marca quando la cambierai. Ti mettono il logo davanti nel volante. Quindi tu per tutti i giorni lo vedi, dopodiché ti fidelizzi a quei controlli, a quelle cose. Però è il prodotto che fidelizza il cliente ad essere ricomprato. Ma questo in realtà lo fa chiunque. Non è il negozio che fidelizzerà il cliente, ma è il prodotto stesso che fidelizza. Ma succede anche con l'integratore. Cioè se io compro il multicentrum, mi abituo a quel sapore lì, poi tenderò a ricomprare il multicentrum. Oppure altri prodotti del genere. Quindi, non so, ai bambini io do, ahimè, quando serve la tachipirina in sciroppo. Non riesco più a cambiagliela perché sono abituati a quel sapore lì e quindi se poi gli andai un altro, lo sputano. Quindi in generale la fidelizzazione può essere legata al prodotto in sé. Però il negozio, che è quello che ci interessa, perché io sono un venditore in questo momento, mi pongo come venditore e dico ok, voglio fare retention, mantenere cliente. Su cosa posso farlo? E se vendo cose molto care, che probabilmente non si compreranno più per anni, non penso, non investo più di tanto sulla customer retention. Quindi, se vendessi automobili online, per esempio. Nello stesso caso ci sono altri tipi di oggetti, che sono delle commodities, dei negozi che vendono delle cose veramente così, non so, penne, matite. È difficile che tu faccia retention sulla penna, sulla matita. Quindi sono oggetti che compri ogni tanto e costano anche poco. Quindi, sì, ok, è più difficile. Ci sono invece delle aree molto, diciamo, fatte apposta per la customer retention, molto adatte per politiche di customer retention, di fidelizzazione. Ad esempio, acquisti di alto valore che si fanno frequentemente. Per esempio, oggetti di elettronica. Oggetti di elettronica costano cari, cellulari, piuttosto che stampanti, cavi e quant'altro. Lo stampante un po' meno perché si fa più raramente l'acquisto, ma sicuramente piccoli oggetti di elettronica, cuffie, accessorie e cose del genere, che comunque hanno un valore proporzionale piuttosto alto, però si comprano di frequente. Anche rientrano in quest'area, ad esempio, per chi lo fa, gli acquisti legati al lusso e alla moda. Quindi, chi compra un braccialetto, un monile, un orecchino, abiti, cose del genere, facilmente lo farà di frequente. Quindi, qui vale molto la pena investire su questo tipo di acquisto. Un acquisto frequente dove c'è un margine, che c'è un alto valore. Ha anche forniture di ufficio, di solito, a meno che non siano piccole cose. La fornitura per la scuola, a volte, quindi la fornitura per cose personali, che devono costare poco, la matita del bambino, no. Ma la fornitura degli uffici sono magari comunque prodotti che, sommati in un ordine per un ufficio, raggiungono un certo valore e devono essere acquistati di frequente. Quindi è possibile ragionare sulla fidelizzazione dell'ufficio acquisti. Ci sono altre cose che costano poco, come ordine, però ha senso fare retention anche su queste. E sono perché comunque la frequenza d'acquisto è alta. E un caso classico è il caffè. Cioè, noi vediamo che tutti questi produttori di caffè, che fanno adesso la macchinetta per le cialde, e la macchinetta te la danno a niente, perché così poi ti venderanno le cialde e sei obbligato a comprare quelle per il formato della macchinetta. Poi ci sono tutti i produttori di cialde compatibili e nasce tutto questo settore, come le cartucce delle stampanti. Analoga cosa, cartucce della stampante, cialda. E chiaramente c'è tentativo di retention sul prodotto per il produttore, ma in generale il negozio che vende caffè, che venda quello di marca, quello compatibile e così via, lavora sicuramente sulla customer retention, perché quel cliente ogni mese, ogni 15 giorni, ogni due mesi al massimo, ricomprerà il caffè. E quindi è logico, anche se l'acquisto non è costoso, magari stiamo parlando di 20 euro, però comunque lo farà molto di frequente, e dopo un po' gli arriverà il caffè in automatico con degli acquisti ripetuti, e quindi tanta fidelizzazione, anche se il valore è basso. E ci sono, ad esempio, un altro possibile argomento qua dell'acquisto ripetuto con un valore non alto, sono gli integratori, un integratore che costa 15, 20, 30 euro. Ad esempio l'integratore per il colesterolo, che costa 15 euro, è un classico caso di valore basso, ma alta retention, perché devi prenderlo sempre, farai tanti ordini nel tempo per questo integratore. Poi se il negozio è bravo, riuscirà ad alzare il valore di questo acquisto, quindi con acquisti multipli, abbonamenti, sconti, se acquisti più di un certo tanto, e in questo caso arriverai ad avere una retention, una fidelizzazione su un prodotto che costa poco, e magari riesci ad accorpare n pezzi per un acquisto che è un pochino più interessante per il negozio. Comunque diciamo, questo è il concetto della customer retention. Una cosa che si vede molto, soprattutto nei negozi che iniziano, è la proporzione tra nuovi acquirenti e acquirenti di ritorno. Gli acquirenti di ritorno sono quelli affetti, diciamo, soggetti alla customer retention, sono quelli che diventano fedeli. Fedeli diventano dopo un po', diciamo, al terzo o quarto acquisto diventano fedeli, ed entusiasti del brand e del negozio, ma prima comunque sono di ritorno anche già dal secondo acquisto. Ora, quanti sono i clienti nuovi rispetto a quelli di ritorno? Questo è un dato che guardiamo sempre nelle statistiche, ci interessa, lo vogliamo vedere, e molto spesso si può vedere sia dal pannello dell'e-commerce, quindi il sistema e-commerce che usiamo lui sa perfettamente se quel cliente è già acquistato, perché vede la login, vede la mail, quindi lo sa, alcuni paneli ti danno questo dato in automatico, esempio Shopify lo fa, e altrimenti c'è Google Analytics, che è molto bravo a dirti due elementi. Uno, i visitatori nuovi rispetto a quelli di ritorno, e due, gli acquirenti, perché si va nella scheda e-commerce, che è stata impostata in fase di collegamento delle analisi, con il vostro sistema e-commerce, quindi lui riesce anche a caricare i dati degli acquisti. A quel punto vedrà quali sono gli acquirenti di ritorno. Attenzione, dal punto di vista di Analytics, gli acquirenti di ritorno sono quelli che lo fanno con lo stesso browser, sono un po' meno rispetto a quelli delle statistiche. Anche ci sono dei casi in cui puoi migliorare le conoscenze di Analytics dei tuoi acquirenti, ma in generale diciamo, Google Analytics dice che sono di ritorno gli acquirenti quando sono ritornati con lo stesso browser, però se invece nella realtà acquistano una volta da computer, una volta da mobile, per Analytics sono diversi, mentre per il vostro sistema e-commerce no, quindi lui lo conosce realmente. Solo il sistema e-commerce saprà realmente se sono nuovi o di ritorno. Perché ci interessa però questo dato? Per valutare la maturità del negozio, il percorso del negozio, perché un negozio nuovo che è aperto avrà solo visitatori nuovi, perché è aperto, non può avere nessuno di ritorno, e magari non farà nessuna vendita. Poi col tempo comincerà a fare più vendite, e dipenderà dal settore di quante vendite stiamo parlando e di quanta pubblicità fa, però a un certo punto comincerà ad avere una quota di visitatori di ritorno. Poi a un certo punto ne avrà ancora di più, fino ad arrivare a un momento nel quale la maggioranza delle vendite, probabilmente se ha lavorato bene, se il settore lo consente, saranno vendite da visitatori di ritorno. Ora, io non ho in questo momento in mano le statistiche di Amazon, non so nemmeno se sono pubblicate, però quello che noto è che io personalmente, tutti quelli che conoscono, se comprano su Amazon lo fanno per più di un acquisto. conosco pochissime persone che hanno fatto un acquisto su Amazon nella loro vita, e poi basta. E questo perché Amazon punta moltissimo sulla retention. Non mi stupirei di sapere che ha l'80% di vendite o più derivate da acquisti di ritorno. E quello che vedo io nei negozi è che comunque i visitatori di ritorno fanno buona parte delle vendite se il negozio è già fermato, già ben funzionante e diciamo sicuramente più della metà. Poi chiaramente dipende dal settore. Come dicevamo prima, ogni settore ha una sua customer retention, che vado a diciamo immaginare, e che è quella adatta per quel settore. Va bene, allora detto questo abbiamo fatto una panoramica sulla customer retention, che cos'è, come valutarla, come considerarla. Vedremo in futuro qualche metodo per andare a migliorare la customer retention e in generale come implementare strategie specifiche. Bene, per oggi è tutto. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao.